Mentre noi cerchiamo di dare voce ai giovani del 18-35 anni, i quali non solo si esprimono attraverso linguaggi loro propri, dal punto di vista artistico e anche diciamo così tecnologico con i social network, ma avremo delle interviste dall'estero dove si trovano giovani di Castelgofredo che stanno lavorando, lavorando in settori diciamo di ricerca importanti. Ecco questo ci fa onore per dire che Castelgofredo non è solo qui a Mantua o tra Mantua e Brescia, ma Castelgofredo è nel mondo ed è nel mondo non soltanto con la calza ma è nel mondo con la sua intelligenza. Ormai ecco per il giovane l'orizzonte non è più il semplice paese, nemmeno la provincia, l'orizzonte è il mondo. Quindi l'intento di questa iniziativa non è solo quella di rivolgersi agli abitanti di Castelgofredo o del distretto o del circondario, ma possibilmente di aprire sempre di più le porte, le finestre, senz'altro a livello nazionale ma anche a livello europeo per riconoscersi tutti nella casa comune europea ormai. Ecco questo è un po' un traguardo ambizioso che ci siamo un po' prefissati. Devo dire che come amministrazione siamo molto lieti che questo evento possa ripetersi e abbiamo dato la disponibilità di quanto ci è stato richiesto per poter garantire la miglia possibile. Mi piace pensare che tra i uno spunto dall'evento dello scorso anno questo momento possa servire anche, non dico a riconciliazione che forse non è necessario, ma ad avvicinare delle generazioni diverse. Ho notato lo scorso anno una presenza numerosa, folta ma anche interessata di persone che certo non possono più definirsi appartenenti alla cattività dei giovani. Io faccio parte di quelle molte famiglie, ahimè decimate, dalla partenza dei figli. Mia figlia vive in uno arabo, lavora là oramai da cinque anni quasi e ha trovato per sua fortuna un'ottima condizione, un lavoro bello che la appassiona. Indubbiamente però questa è una condizione straordinariamente bella quando è frutto di una scelta, ma che può invece essere terribilmente difficile quando di scelta non ce n'è. L'esordio sarà venerdì sera con un gesto simbolico, dallo straordinario significato che è quello della consegna delle Costituzioni ai miei centenni, non tutti lo saranno, ma qualcuno lo dovrà avere, che appunto è una qualche sorta di come dire esordio in società. Le attività poi si articoleranno nei giorni successivi su molti diversi argomenti, molti diversi tasti, ci saranno anche manifestazioni sportive nelle quali mi è stato detto, sono stato precettato. Come l'anno scorso si svolge sui tre giorni, venerdì, sabato e domenica, ogni giorno dedicato a una tematica, senso civico il primo giorno, creatività il secondo e solidarietà, sport e benessere il terzo giorno. Più di 120, quindi quest'anno aggiungiamo la domenica pomeriggio, l'anno scorso sarà 80, l'anno prossimo aumenteremo ancora. Quindi molte cose, ma la politica del festival è questo, dare tante possibilità e ognuno poi sceglie cosa andare a vedere, col fatto che alcuni eventi vengono ripetuti, quindi il pubblico potrà crearsi il proprio programma rispetto anche ai propri interessi e alla propria voglia di approfondire determinate tematiche. I Master Gap, che sono degli incontri di approfondimento ognuno su una tematica precisa, dove verranno, come dire, approfondite determinate tematiche con esperti, anche castellani e nonni, quindi giovani che si mettono in prima linea a raccontare la propria esperienza professionale in certi casi o di passione in altri. Rispetto agli eventi artistici, agli eventi sportivi, adesso non mi dilungo, perché sono tanti, però anche quest'anno abbiamo cercato di tenere le varie isole e quindi ognuno può scegliere tra cinema, teatro e video, musica, sport, artigianica, questo programma riesce a coprire l'interesse dal più piccolo al più adulto, questo perché è sì dedicato ai giovani, ma vuole essere anche il festival della città. Noi abbiamo convolto praticamente tutte le associazioni che fanno parte, o gran parte delle associazioni che fanno parte del territorio castellano e ognuno abbiamo chiesto di proporre qualcosa per i giovani. L'evento è portato avanti dalla parrocchia in collaborazione con l'associazione Donaldo Moratti, poi ha avuto il sostegno del nostro comune, ma anche un contributo della regione Lombardia della fondazione della comunità mantovana, oltre che un sostegno da parte della diottesi con il settore della pastorale giovane. Allora non rimane che godersi.